L'esperienza assessorile di Marina Salerno si avvia verso la sua conclusione. È stato proprio il suo partito questa settimana a volere un avvicendamento. Un avvicendamento volto a trovare una figura più organica al Partito Democratico, che possa prendere le redini delle deleghe già in capo e di altre che finora sono rimaste in capo al sindaco. Una decisione presa anche in vista delle elezioni comunali 2022. Il PD infatti vuole rilanciare il suo pieno coinvolgimento nell'azione di indirizzo politico del governo della città. La presenza del Partito Democratico in questa amministrazione, come sapete, è una presenza che si è definita col tempo sulla base di presupposti politici e per politici intendo dire in nome di una volontà di ricomporre delle spaccature e delle crepe all'interno di un fronte di orientamento e di indirizzo politico di centro-sinistra più ampio. E c'è costato sacrifici. Il nome di questo sacrificio e il nome di questa iniziativa politica ci si aspettava certamente non una svolta nell'amministrazione della città, ma più che altro perché si è entrati su un treno già in corsa, su un progetto già in costruzione. Ma ci si aspettava una rappresentazione più possibile corale delle sensibilità del PD. Una funzione non facile che finora l'assessore Salierno ha approvato, per quanto l'è stato possibile, a fare e ad esprimere. Ignoto ancora il nome di chi sostituirà l'attuale assessore all'istruzione. Crediamo che in questa fase finale forse sarebbe il caso dell'amministrazione, sarebbe il caso di un lavoro più concertato che riesca a rappresentare meglio questa pluralità di sensibilità.